Ciao a tutti siamo qui Passa un po' il volume Con Happy Wheels Di Happy Wheels Non ci ho giocato molto Volevo subito provarlo con voi Ok Cerchiamo Se ci sono mai dei livelli Per me ma non credo Non credo assolutamente What? What? Proviamo Ehm Vi spiego un po' Quello è successo oggi So che a molti di voi Non importa niente Ma oggi ho provato A fare Il video Ben tre volte A cosa voglio dire di nuovo E questa è la quarta Contando tutte le altre E Perché è molto semplice Paticamente no Non so come è possibile Comunque Ehm ho provato a fare tre video Uno è continuare la carriera L'ho fatto Scusate se Comunque continuare nella carriera E se ho continuato nella carriera E il problema qual'era? Non mi aveva registrato FIFA Mi aveva solo registrato l'audio Allora ho detto Vabbè Vabbè Giocando a FIFA E cercarla di indovinare Schifo anche quello L'ho fatta tutto Non c'era il file Non l'ho registrato la play Ho l'audio Però Vedete la mia faccia E che guardo il televisore Proviamo questo E allora ho deciso di registarvi Il E E 1000 E E Non so questo Boh Provo il 18 Non lo so veramente Eh Infatti Ho l'ho fatto Lo facciamo Comunque E' stato Ma Oh Una l'ho nominata C'è Ho sbagliato E comunque Mi dispiace di essere portato solo le Pw Questa percusa oltre Sì No 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 Non lo sapevo la Questa Il L'unico Ma praticamente Da quel che ha capito Sempre ha visto Questa Ok L'ultima lo sapevo Le prego Queste due No Si sa che è quello che ho spinto Questa In Mh Un Mh C'era Mike Product Questa T Si si vince, si vince, proviamo uno con l'altro tubers, proviamo ok maurice pot boh proviamo con tub italia proviamo taglia troviamo, 5 stelle boh meto qualcosa di più qui guarda guarda parla Piappa le tenente, che di qua, spetta, comunque come avete visto non sono uno fortissimo, entrambi. Possiamo, oltre, invece può acquizzare a caso. Chi ha le due favole di circa occulto praticamente a tutto. So già. Ma già scorso lo sapevo, anche perchè ci sono diverse parole a dire, soprattutto una di dei pantelli, sono stupidi vabbè, che si vede praticamente uno di loro che è praticamente, troppi praticamente, praticamente, praticamente. E comunque, che, vedi lui che beve la Coca Cola, la, no, la Pepsi mi sembra. Non ce l'ho visto, dunque. Eh, Fedez, e comunque si vede, lui, che... Chiaramente beve la pezzi ogni video e fuma sempre la stessa, cioè, di stesso tipo. questo. Scriviamo in un solo animo? Non so. Non... Magari qualche livello. No. Ma, credo. Rating. Porto in mano per rating. Sì. Dai, questo, sembra non male. What? Ok. 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 always. Scriviamo un altro aiutinoso? No, non so. Bon. Bon. Chiaro di tutto. So, come, non so. Cosa? Non so, c'è. stiamo direttamente qui da diciamo che togliamo un po di lavoro a stepney ci ho aspettato adesso i stepney fa speranza salute mi chiamo n questo qui si suona la youtube fa 0 st e inizio si chiama la ragazza di stelle marina perché io stiamo niente qua di sviluppo che stava a fare no 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 e mi spacco sempre i campi tanto non ti saltare che era facile nooo non sapevo che aveva perchè il limone è di tutorial power quindi niente non si può è difficile se ho paura da saltare questi con una tosse anguria con le angurie poi il mio frutto si è freddo di più di 8 diciamo e l'ado voglio scopi fa schifo senza affesa ma è un po' difficile ok come si chiamaste beh è però un po' difficile come tipo vabbè cambio personaggio questo vabbè furbo io mi suicido dov'è no no bo dopo cento suicidi vabbè mi ammazzo di nuovo fiorenza no ma potete potreste mettere qualcosa tipo che non mi ammazzo ogni volta anzi aspetta non ho ancora provato un personaggio mai tipo vabbè questo un po' difficile 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 proviamo questo proviamo dovremmo fare tipo una cosa troppo impossibile non così non così è troppo impossibile io parlo semplice Doi? Dai, adesso devo ritornare, ok, 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 oh merda, bene, quanto è di video, tante credo, va, io firmei quel video, ciao, e alla prossima.